Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qui con il secondo video della nostra carriera alla SPAL dove abbiamo fatto parecchi acquisti e oggi siamo qui per andare a giocare una partita in casa col Carpi ragazzi partita importante perché ci consentirà la qualificazione della Coppa Italiana oggi faremo la partita e poi un po' di mercato e vi direi però subito di non perderci in chiacchiere e via con la intro eccoci tornati ragazzi, siamo qui con questa partita e ragazzi speriamo veramente di vincerla e cominciamo subito occhio ragazzi, Carpi in attacco, occhio, parata e c'è l'1-0 del Carpi, Goncas, non ci voleva ragazzi Goncas voglio dire, non ci voleva ragazzi, 1-0, cerchiamo di riprenderci e di portare sempre la vittoria riparte la SPAL ragazzi, Paloschi, posizione regolare, vuole entrare in aria, Paloschi, traversa, ancora SPAL, oh non mi sbaglia occhio ragazzi, occhio ed è gol per il Carpi, 2-0 la firma sempre di Goncas peccato ragazzi, poteva andare molto meglio per adesso questa partita niente, speriamo di fare ragazzi, fine del primo tempo, partita abbastanza diciamo brutta per noi che però cercheremo di svegliarsi nel secondo tempo cerchiamo di riacciuffare a quanto meno il pareggio per puntare poi alla vittoria nel corso della partita ritornare, occhio Mere per ora siamo salvi ragazzi, speriamo di non prendere i gol su questo calcio d'angolo va a battere Jelic prova grande parata di Mere Ciciretti lancia Paloschi Paloschi a campo per andare a campo per andare Alberto Paloschi la SPAL si avvicina di più al pareggio e spera in un bellissimo pareggio in questi ultimi minuti ragazzi continuare così ragazzi grande Paloschi dai ragazzi qui si avvicina di più al pareggio in questi ultimi minuti e Borriello gira la palla Paloschi Steso Paloschi Niente fallo ragazzi Finisce qui ragazzi A mio mani in cuore Finisce qui Una partita sofferta Che siamo usciti più o meno a riacciuffare Verso la fine Quello che vedo Si sente che il cutrone non c'è Si sente molte assenze Di tutto si sente Ora però cercheremo di Trovare un giocatore perfetto Per questo poco budget nostro 2 milioni Veramente poco Ragazzi ci sentiamo appena troverò il giocatore Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci tornati ragazzi Ora contatteremo questi giocatori Che ho scelto dal Da una delle mie squadre preferite Cioè il Bari Una squadra che supporto E proviamo a contattare tutti questi Tanefello Flores Che sembra essere proprio in prestito Dal Chievo Il chiave appena acquistato il giocatore Galano non è appena acquistato Quindi ragazzi Proveremo a prendere Galano Parlando con il direttore Ecco tutta la scena Le offriamo un milioncino Direi un bel milioncino E me è 620 Ragazzi noi abbiamo pochi soldi Quindi dobbiamo fare Offerte Ragazzi Dobbiamo prenderla a questa cifra Ragazzi è questa la cifra E accetta dai Accettata l'offerta per Galano Non prende una stipendia molto alto Però ovviamente Dovremmo arrivare A prenderlo con un po' di soldi Io ragazzi cerco di accimulare Più soldi possibili E ci sentiamo dopo Eccoci un altro ragazzi Per finire Questo contatto con Galano Sono riusciti a fare un pochino di soldi Giusto un 20.000 Penso Però penso che vanno bene per Galano Accettiamo che giocherà comunque 4 anni Ed è perfetto Ok Accettiamo Cristian Galano Cristian Galano È un nuovo giocatore Della SPAL Colpo molto diciamo low cost Ma che potrà sicuramente Servire Ragazzi Anche questo episodio Oggi Termina qui Se vi è piaciuto Lasciate un bellissimo like Se questo video vi è veramente piaciuto E condividetelo E iscrivetevi al canale Per arrivare sempre più iscritti E fare video sempre più belli Bella Grazie a tutti Grazie a tutti